Il nostro vigneto di cornuda Un'annata particolarmente complicata 22 giorni di pioggia a luglio un agosto che più o meno assomiglia molto a quest'ultimo mese piccoli problemi in vigna qui siamo in una collina non particolarmente alta ma il problema più grande di quest'annata in questa vigna è stata la grandinata di qualche settimana fa, qualche mese fa qui si vedono degli acini colpiti da grandine vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qui, questo è un acino colpito da grandine rotto che fortunatamente si è seccato eccone qui un altro che fortunatamente si è seccato però nelle parti un po' più vigorose della vigna ha dato qualche problema abbiamo come vedete sfogliato il più possibile la parete a est che è quella che prende il sole del mattino che è un sole meno caldo anche se in realtà qui non fa caldo nemmeno qua ad agosto stamattina abbiamo lavorato fino alle 10 con la felpa ahimè dovremo in vendemmia una piccola selezione l'abbiamo già fatta in questi giorni ma dovremo in vendemmia selezionare ulteriormente i grappoli perché sono molto pieni come vedete è un grappolo molto pieno carico d'acqua a causa di tutte queste piogge e soprattutto c'è questa cosa qui eccola lì qualche acino che comincia a a far la muffa e sicuramente se non uscirà caldo e sole sarà sarà proseguirà appunto questa 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 marcescenza e sarà un problema poi su su tutto il grappolo quindi sicuramente una grande attenzione sarà fatta al momento della vendemmia e speriamo speriamo di vedere finalmente questo tanto atteso sole ecco qui sulla stessa fila abbiamo delle viti molto più vigorose a distanza di 10 metri e qui vedete che infatti il grappolo è eccolo qui anche qui c'è qualche c'è qualche problema adesso vi faccio vedere l'acino una volta tolto eccolo lì è nero nero con della muffa grigia sopra che è quella poi che potrebbe dare alcuni problemi è un momento della vendemmia sicuramente fino a questo momento è un'annata particolarmente difficile che ci ha insegnato molto e ci ha veramente messo alla prova credo che si possa dire che ci sia stata una forse una bravura una fortuna nostra di non aver concimato di aver lavorato il terreno in modo da da renderlo più soffice più come dire farlo accogliere di più l'acqua e pochi tralci quindi meno uva e quindi probabilmente risultata un po' più sana rispetto a vigne più vigorose questo non vuol dire che ahimè non ci siano i problemi che anche qui abbiamo come vedete le femminelle sono le femminelle sono le foglie più fresche che sono queste sono bruciate o parzialmente bruciate dalla peronospora che non si riesce a non si riesce a combattere perché appunto c'è pioggia ogni 2, 3, 4 giorni e insomma vedremo vedremo dobbiamo solo pregare e aspettare che arrivi il sole